Ciao a tutti, sono Michela Gallia, sono una logopedista e collaboro con la Eco Voice Academy. Oggi voglio parlarvi dello strumento musicale che tutti noi possediamo e che ci permette di parlare, cantare, ridere, piangere e tanto altro, ossia le corde vocali. Le corde vocali, o pliche vocali, sono inserite all'interno della laringe e hanno uno spessore e una lunghezza differente a seconda dell'età e del sesso. Nel maschio adulto la lunghezza delle corde vocali varia tra i 17 e i 25 mm circa, mentre nelle femmine adulte la loro lunghezza varia tra i 12 e i 17 mm. Dalla lunghezza e dallo spessore delle corde vocali dipende la cosiddetta frequenza fondamentale della voce, ossia l'altezza tonale alla quale parliamo. A corde vocali più spesse e lunghe, come quelle maschili, corrispondono voci più gravi, mentre a corde vocali più sottili e corte, come quelle femminili, corrispondono voci più acute.